Ben ritrovati, ben ritrovati. Allora, innanzitutto non dobbiamo spettacolarizzare quanto stia accadendo, perché stiamo affrontando argomenti di un certo spessore, di una certa rilevanza. Si parla della Procura di Torino, dunque della Polizia Giudiziaria che poi viene incaricata a fare un blitz, come è avvenuto ieri a Coverciano, parliamo di notificati atti di indagine, quindi di calciatori indagati a tutti gli effetti, sempre della Procura di Torino. Insomma, ieri, vivendo poi anche queste situazioni ai tempi della modernità, dei social cosiddetti poi del giornalismo, del lavoro, dell'operato 3.0, un giocatore italiano, un giocatore non italiano, un giocatore che milita in Serie A, che milita all'estero, ha i baffi, è rasato, è pelato, è biondo, cioè, mi sembra che questi siano argomenti da trattare con altro piglio. Poi, è normale che ci sia tanto interesse da parte di tutti, e per tutti non intendo solamente le persone che si occupano di sport o che in generale lo vivono da tifosi, quindi del calcio, che è una religione in Italia. Però, mi sembra che anche le varie home page, dei siti, dei quotidiani generalisti, le copertine, qua e là, c'è una spettacolarizzazione piuttosto evidente di un tema che va trattato con estrema delicatezza. Sappiamo perfettamente come da ieri siamo ufficialmente indagati Tonali e Zagnolo dalla procura di Torino, la FIGC ha comunicato, appunto, di atti di indagine notificati, e tutto si collega poi dallo spoiler che era già arrivato da Corona tramite i suoi canali e i suoi brand. Quindi, la giornata di ieri è stata a tratti anche surreale, perché a un certo punto c'è un piccolo, una sorta di spoiler da parte di Fabrizio Corona, che poi successivamente viene sentito, viene ascoltato, anche lui, in questura. E poi, dallo spoiler di Corona, si passa al blitz vero e proprio della polizia giudiziaria rincaricata dalla procura di Torino a Coverciano, con nel mirino due calciatori, Sandro Tonali e Nicolo Zagnolo. Io, vale quello che ho detto anche per Nicolo Fagioli, quindi io non ne faccio una questione di maglia, per me deve essere accertata la realtà per Fagioli, per Tonali, per Zagnolo, che sono stati chiamati in causa, che sono poi stati anche ascoltati nella giornata di ieri, ma non mi metto qui a puntare il dito, conoscendo praticamente l'1% della storia complessiva. Quindi il fatto che sicuramente la PM abbia voluto comprendere maggiormente anche la situazione a tutto tondo, fa parte abbastanza del gioco, del fatto che poi debba emergere in maniera naturale e in maniera trasparente la realtà dei fatti, però ad oggi il quadro mi sembra ancora molto astratto. Sicuramente questi sono nomi pesanti, sicuramente è normale che a livello di calcio Italia, sebbene Tonali e Zagnolo militino ora in Premier League, è chiaro che è doveroso preoccuparsi, perché da chiedersi se questa sia la punta dell'iceberg, o solamente l'iceberg, se ci saranno altri nomi, se quindi entreranno in ballo altre situazioni. Ad oggi non lo sappiamo. Probabilmente conosciamo, ribadisco, l'1% della storia, conoscendo solamente l'1% della storia non possiamo stare qui a pontificare. Però è normale che sia una sorta di shock, perché i calciatori hanno lasciato il ritiro. La FIGC poi ieri con una nota ha comunicato che nel tardo pomeriggio ieri la Procura Repubblica di Torino ha notificato atti indagini ai calciatori Tonali e Zagnolo e quindi a prescindere dalla natura degli stessi atti, come comunicato dalla FIGC, è stato scelto che i calciatori andassero via, ritendo che la situazione non fosse delle condizioni ideali per affrontare gli impegni in programma in questi giorni. Quindi la federazione, anche provando a tutelare gli stessi calciatori, ha optato per dare il consenso a Tonali e Zagnolo di rientrare nei rispettivi club. Però da ieri sono ufficialmente indagati dalla Procura di Torino. Oggi ho già letto un po' di ricostruzioni, perché poi si cerca anche di capire, no? Quale sia, e se esiste o meno, il filo conduttore, ciò che unisce queste situazioni, che al momento dobbiamo leggerle in maniera individuale, non avendo la situazione chiara. Poi, se a chi di dovere c'è la chiara, evidentemente con i tempi dovuti la renderà chiara anche a noi poveri comuni mortali, ma ad oggi siamo anche tramortiti, no? Perché se parliamo di Fagioli, Tonali e Zagnolo parliamo di tre calciatori importanti, chi più chi meno, tutti e tre, poi indagati, indagati per un tema abbastanza tosto, abbastanza scottante, e, cioè, quando uno legge, caso scommesse, Tonali, Zagnolo, prima ancora Fagioli, insomma, non è la passeggiata, nella maniera più assoluta. Però, invito tutti alla massima prudenza, in quanto, credo sia giusto, che senza inquinare il percorso delle stesse indagini, quindi il lavoro degli inquirenti, poi si faccia chiarezza per rendere agli sportivi, anche a coloro che non amano lo sport, il quadro più solido, più comprensibile, perché ad oggi mi sembra un grossissimo punto interrogativo, un grossissimo punto interrogativo, dove però ci sono dei gesti inclatanti, come la cosiddetta autodenuncia di Fagioli, e poi questo blitz, da parte delle forze dell'ordine, a Coverciano, dopo le dichiarazioni di Corona. Cioè, sembra anche un po' surreale come quadro, considerando il tema, e le persone coinvolte. Però questo è, quindi, non vi chiedo neanche un'opinione, perché non potete averla. Cioè, nel senso, così sembra un discorso da dittatore. Riformulo, credo che anche voi faciate fatica, a capire come si possa collegare il tutto. Ovvio, voglio sapere la vostra opinione, su come siate vivendo queste notizie che stanno uscendo, abbastanza impattanti e molto importanti. Però non vi posso chiedere un'analisi, perché noi poveri comuni mortali, non abbiamo gli elementi necessari ora, per effettuare un certo tipo di lettura. Poi, ovvio, si può stare qua a sparare sui calciatori, sul fatto che siano ricchi, sul fatto che, se sono così ricchi, perché devono, eventualmente, se dovesse essere dimostrato a rovinarsi o condizionare pesantemente la carriera effettuando gesti malsati. Tutto questo ci sta. È normale che ci possa essere anche questa visione. Però vi chiedo come state vivendo queste notizie che vanno a confluire, però, in un unico tema, con situazioni probabilmente differenti. Boh, lo vedremo. Magari anche meno differenti di quanto si possa pensare. Ma intanto si parla di caso scommesso. Caso scommesso ovunque.